Ed ora passiamo alla terza parte di questo video, in cui mi occuperò delle preposizioni articolate, mentre nel video successivo mi occuperò delle preposizioni improprie e delle locuzioni prepositive. Le preposizioni articolate, come vi ho già detto, si formano con alcune delle preposizioni semplici unite agli articoli determinativi. Sono solo sei le preposizioni che vengono utilizzate e sono di, a, da, in, con, su. Vediamole tutte una per volta. Iniziamo con la preposizione di. Questa preposizione semplice, addizionata agli articoli determinativi, forma le sei preposizioni articolate, del, dello, della, al singolare, e dei, degli, delle, al plurale. Queste sei preposizioni articolate, in tedesco, si formano declinando l'articolo secondo il caso genitivo. Mi spiego meglio usando la parola tavolo. Il tavolo è un nome maschile e in tedesco, per dire il tavolo, l'articolo deve essere declinato secondo il caso nominativo. E quindi in questo caso si usa DEA, il tavolo, DEA TISCH. E al plurale si usa DI, quindi I tavoli, di TISCHE. Se invece noi vogliamo usare la preposizione DEL, per dire DEL TAVOLO, oppure al plurale DEI, DEI TAVOLI, dobbiamo, anche in questo caso, declinare l'articolo, ma secondo il caso genitivo, sia al singolare che al plurale. Quindi DEL TAVOLO, DES TISCHE, DEI TAVOLI, DEA TISCHE. Se voglio dire, quindi, I piedi del tavolo, DI FUSSE DES TISCHE, I piedi del tavolo sono robusti, DI FUSSE DES TISCHE, SINT ROBUST, al plurale, I piedi DEI TAVOLI, DI FUSSE DEA TISCHE. E l'articolo viene sempre declinato, secondo il caso genitivo, in DES, al singolare, e in DEA, al plurale, per tutti i nomi maschili, sempre. Vi faccio altri esempi. IL PAVIMENTO, DEA BODEN. L'articolo declinato al genitivo, al singolare, diventa DES, e al plurale diventa DEA. Quindi, DEL PAVIMENTO, DES BODENS, DEI PAVIMENTI, DEA BODEN. LE MATTONELE, DEL PAVIMENTO, SONO ROSSE. DI FLEISEN, DES BODENS, SINT ROTE. Quindi, l'articolo va declinato, secondo il caso genitivo, usando al singolare DES, che traduce il nostro DEL, DELLO, e al plurale DEA, che traduce DEI, DEGLI, per quanto riguarda i nomi maschili. Mentre, per quanto riguarda i nomi femminili, DEA traduce DELLA, e sempre DEA traduce DELLE. Vi faccio un esempio con un nome femminile. LA LAMPADA, DI LAMPE, DELLA LAMPADA, DEA LAMPE, DELLE LAMPADE, DEA LAMPEN. LA LAMPADINA, DI GLIUBIRNE, DELLA LAMPADINA, DEA GLIUBIRNE, DELLE LAMPADINE, DEA GLIUBIRNEN. Il filamento della lampadina è rotto. DI GLIUBIRNE, DELLA GLIUBIRNE, IST CAPUT. Ora vediamo come si declina l'articolo, sempre secondo il caso genitivo, riguardo i nomi neutri. L'auto, DAS AUTO, l'articolo declinato al genitivo. DELL'auto, DES AUTOS. DELLE AUTO, DEA AUTOS. Le ruote dell'auto sono lisce, direi da des autos sind glatt, quindi riepilogando al maschile singolare si usa des, che traduce del, dello, al plurale si usa dea, che traduce dei, degli, al femminile singolare si usa dea, che traduce della, e anche al plurale femminile si usa dea, che traduce delle. Per il neutro si usa des al singolare e dea al plurale, quindi è uguale al maschile. La preposizione semplice a forma le preposizioni articolate al, allo, alla al singolare e ai, agli, alle al plurale. Queste preposizioni articolate in tedesco vengono tradotte con l'articolo declinato secondo il caso dativo. Vi faccio alcuni esempi. C'è una piccola terrazza proprio qui, dietro ai fiori. Qua è una piccola terrazza dietro ai fiori. Hier ist eine kleine terrasse hinter den Blumen. Ai fiori, den Blumen. Il cane, der Hund. Al cane, dem Hund. Oppure, dem Hunde. Ai cani, den Hunden. Doloso al cane, ich gebe der Knochen dem Hund. Il panettere, der Beca. Al panettere, dem Beca. Ai panettieri, den Becan. Porto la farina al panettere, ich bringe das Mehl, dem Beca. Riepilogando, per i nomi femminili, Dea traduce Alla, den traduce Alle. Per i nomi maschili, dem traduce Al, Allo, den traduce Ai, Agli. Per i nomi neutri, si usa dem al singolare e den al plurale, come per i nomi maschili. Come ho già detto, le preposizioni articolate in tedesco vengono sostituite dal nome che si declina secondo il caso dativo. Attenzione ora. Il caso dativo equivale al nostro complemento di termine. Vi faccio un esempio. Michele porta una rosa a Martina. A chi porta una rosa Michele? A Martina. A Martina è il complemento di termine, e cioè a chi termina l'azione? A Martina. In tedesco, il nostro complemento di termine è tradotto dal caso dativo. Vediamo altre frasi. Non voglio credere alle tue parole. Alle tue parole in italiano è un complemento di termine. In tedesco è il caso dativo. Ha dato un bacio al bambino. Lui ha al bambino un bacio dato. Er hat dem Kind einen kuss gegeben. Attenzione però a non confondere il complemento di termine con il complemento di moto al luogo. Io do un bacio al bambino. A chi do un bacio? Al bambino. Al bambino è il complemento di termine. Io vado al cinema. Dove vado io? Al cinema. Al cinema. È il complemento di moto al luogo. Quindi, per quanto riguarda il complemento di termine, in italiano si usa la preposizione articolata. In questo caso, al. Mentre in tedesco si usa l'articolo declinato secondo il caso dativo. In questo caso, dem. Io do un bacio al bambino. Ich gebe einen kuss. Dem Kind. Per quanto riguarda, invece, il complemento di moto al luogo, in italiano si usa la preposizione articolata. In questo caso, la preposizione al. E anche in tedesco si usa la preposizione articolata. In questo caso, ins. Che sarebbe la preposizione in più l'articolo usato per il neutro. Das. Infatti, il cinema si dice das Kino. Io vado al cinema. Ich gehe ins Kino. Mi occuperò della preposizione articolata ins alla fine di questo filmato. Utilizziamo ancora queste due frasi usando però i nomi femminili. Bambina e farmacia. Io do un bacio alla bambina. Alla bambina, in italiano, il complemento di termine. In tedesco si usa l'articolo declinato secondo il caso dativo. Dem Mädchen. Io vado alla farmacia. Ich gehe zu Apotheke. Alla farmacia, in italiano, è il complemento di moto a luogo. In tedesco, zu Apotheke. Quindi si usa la preposizione articolata. Zuha. Che è formata dalla preposizione zu più l'articolo di. Io vado alla farmacia. Si può dire anche Ich gehe in die Apotheke. Quindi si può usare la preposizione articolata zuha ma anche la preposizione semplice in più l'articolo per il femminile di. Se io vado alla farmacia, nei pressi della farmacia e quindi senza obbligatoriamente entrare nella farmacia, magari per incontrarmi con un amico nei pressi appunto della farmacia, allora uso la preposizione articolata zuha. Se invece devo entrare nella farmacia, allora dico Ich gehe in die Apotheke usando la preposizione in. Quindi da come abbiamo visto, la preposizione semplice zu può formare delle preposizioni articolate. Zu più l'articolo di forma la preposizione articolata zuha, alla. Zu più l'articolo dea forma la preposizione articolata zum, al, allo. Zu più l'articolo neutro das forma la preposizione articolata zum. Io vado all'ufficio. Ich gehe zum Büro. All'ufficio zum Büro. Anche se in tedesco è corretto dire io vado nell'ufficio. Quindi si usa la preposizione articolata ins. Ich gehe ins Büro. Vediamo ora la preposizione da, da cui si ottengono le preposizioni articolate dal, dallo, dalla, al singolare, e al plurale dai, dagli, dalle. Questa preposizione viene utilizzata nel complemento di moto da luogo e nel complemento di moto al luogo. Nel complemento di moto da luogo si usa la preposizione aus seguita dall'articolo. Ad esempio, se devo dire dal bosco, dirò aus dem Wald. Io sono un piccolo orso ballerino e vengo dal bosco. Ich bin der kleine Tanzbeer und komme aus dem Wald. Se abbiamo un complemento di moto al luogo si usa la preposizione articolata zuo che traduce dalla oppure dai, dagli, dalle. Quindi il femminile e il plurale. Oppure si usa la preposizione articolata zum che traduce il maschile e il neutro. Quindi dal, dallo. Ad esempio, io vado dalla nonna. Ich fare zua oma. È come se noi in italiano usassimo la preposizione articolata alla dicendo io vado alla nonna. Vediamo ora le preposizioni articolate nel, nello, nella e al plurale nei, negli, nelle. Nel e nello vengono tradotti da im e ins. Im per il maschile e ins per il neutro. Il cinema in tedesco è un nome neutro quindi si usa ins. Io vado al cinema in tedesco è corretto dire io vado nel cinema. Ich gehe ins kino. Il lago der See è maschile e quindi si usa im. Il lago der See Vieni con noi al lago Coms du mit vi agen im See Baden? Per il femminile e il plurale la preposizione in non va articolata. Io vado in cucina nella cucina In italiano la preposizione con forma le preposizioni articolate col e coi mentre in tedesco questa preposizione semplice non viene articolata. L'uomo col cappello der Mann mit dem Hut la donna coi guanti neri die Frau mit den schwarzen handschuen La preposizione su forma le preposizioni articolate sul sullo sulla al singolare e sui sugli sulle al plurale mentre in tedesco la preposizione su non va articolata. Vediamo alcuni esempi. Il libro è sul tavolo Das Buch ist auf dem Tisch Gli uccelli si posano sugli alberi Die Vogel sitzen auf den Bäumen C'è la neve sulle montagne Es gibt Schnee auf den Bergen Dato che questo video è troppo lungo inserirò le preposizioni improprie e le locuzioni prepositive nel quarto filmato e poi nel quinto vi inserirò gli esercizi sulle preposizioni. Vi chiedo scusa se troverete qualche errore di battitura o di distrazione troppo per fortuna per me io realizzo sempre svariati filmati in contemporanea e quindi mi capita di commettere degli errori. Do un grazie a tutti voi per l'interessamento a questo mio corso e se vi piacciono i miei video come ad esempio questo che state vedendo lasciateci un like anche un bel commento e soprattutto condividetelo con i vostri amici. Grazie infinite. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.